Sta per finire il campionato, si avvicina il calcio mercato e la Roma come sempre per tutti i giornali e i giornalisti vende tutti ragazzi, oggi sarebbe arrivata la notizia come nonostante questo si sta parlando di Salah, si sta parlando di un'articolo OneFootball qui in alto alla mia destra nonostante questo, nonostante abbiamo venduto Salah, nonostante abbiamo venduto Palmieri, nonostante 100 milioni della Champions nonostante tu sia quella pelata, di che cosa si parla? Tutte le testate giornalistiche parlano di una probabilità alta che uno dei pezzi pregiati della rosa possa essere ceduto ugualmente si parla tanto di Alisson che la Roma vuole provare a tenere ma dalla Spagna arriva oggi un'indiscrezione che riguarda invece Costas Manolas pare che la Roma abbia offerto al Real Madrid Manolas ma il greco non convince a parte che io non capisco come faccio a non convincere Manolas con tutto il rispetto ragazzi io non sono uno che se la sente calla, a me lo dovreste sapere, io anzi molto spesso tendo a criticare i miei giocatori quando serve però ragazzi io credo che Manolas sia un ottimo difensore, un grande ottimo difensore se vado a cercare Real Madrid con tutto l'amore del mondo, Real Madrid è grande squadra ovviamente ci mancherebbe altro non siamo nemmeno all'unghia del piede del Real Madrid però i difensori centrali sono Sergio Ramos tanto di cappello, Varane tanto di cappello e poi c'è Nacho Fernandez e Valleko, io con tutto il rispetto per Nacho Fernandez e per Valleko reputo Manolas in questo momento superiore ad entrambi quindi mi sembra anche parecchio strano questa cosa che il Real Madrid abbia rifiutato Manolas offerto gentilmente dalla Roma, mi fa ridere, offerto Manolas, offerto di chi? offerto regalato? No, non penso proprio però non convince, allora io sono contento che non convince, spero che continueranno a non convincere le altre squadre per l'eternità nonostante a me continui a convincere io ragazzi penso che la Roma debba tenesse forte, forte, forte l'ossatura che si è costruita non sarà facile, lo so benissimo che non sarà facile e Manolas avrà un sacco di offerte e Gego avrà un sacco di offerte ma in Golan non lo metto in dubbio Alisson che totica fa poi c'è anche Strottman che insomma è cercato Pellegrini è cercato Bruno Perez invece è proprio ricercato cioè Bruno Perez è ricercato, wanted però a parte questo io penso che l'ossatura vada tenuta io non so se davvero la Roma ha offerto al Real Madrid Manolas mi sembra surreale la cosa a meno che insomma non si sia trovata con una mano davanti o dietro un'altra volta nel dire cazzo tocca a vende quindi che cosa vendiamo? vendiamo subito Manolas al Real Madrid prima che poi ci tocca da Strottman, Pellegrini e tu sia qua pelata alla Juventus e poi la Roma segna i tifosi da Roma si incazzano cerchiamo di vendere subito immediatamente in questo momento Manolas in una squadra che non c'entra niente con il capio italiano non c'entra niente con la Roma però mi sembra assolutamente assurdo e mi sembra sinceramente ancora più assurdo che il Real Madrid ci abbia pensato nel senso abbia detto non me convince, grazie io penso perlomeno ci avrebbe dovuto pensare oggettivamente ragazzi Manolas per me può tranquillamente fare la staffetta alla Real Madrid e fare qualche partita non è che lo vai a pagare 70 milioni 45 lo vai a pagare io un pensierino fosse il Real Madrid ce l'avrei fatto quindi il secco no mi sembra anche abbastanza assurdo diciamo io spero sia così a me mi ruota il culo se Manolas farà il Real Madrid però per il momento lo metto in voce di mercato perché mi sembra fuffa mi sembrano cazzate certo è che sapete come vanno se avvicinando al mercato ragazzi per un romanista è come cosa è come niente non c'è niente di più rischioso di un romanista quando inizia al mercato fatemi sapere come sempre con un commento qua sotto che cosa ne pensate io ragazzi mettete mi piace adesso in questo momento supportate il canale con un mi piace con una iscrizione se ancora non siete iscritti mi raccomando buascialallalla e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo ma non perché Manolas ma lasciate Manolas ma lasciami tutti quest'anno non vendevo nessuno dai vendevo tutti cosa si può fare ragazzi OneFootball qua sotto cosa si può fare costas quanto costis rimani 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 fatta fatta rimani ratta in between try to square not be in there